Possibile che realizzare delle buone fotografie con un dispositivo fotografico sia sempre così complicato? Ci sono così tanti bottoni e così tante opzioni e per chi è neofita spesso questo può essere disarmante perché non capiamo nemmeno che cosa stiamo facendo. Ecco però che oggi vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché vi farò vedere un menu in particolare che vi mette in grado di realizzare delle foto dando alla fotocamera poche istruzioni comprensibili anche a chi non ha nessuna nozione di fotografia. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare mi occupo di fotografia da tanti anni e quindi per me tutti i vari bottoni di una macchina fotografica professionale o entry level hanno pochi segreti nel senso che le uso da tanto tempo se mi dai in mano una fotocamera che non conosco magari mi servono cinque minuti per trovare un'opzione ma riesco a usarla riesco a lavorarci grosso modo con tutti i brand. Se però stiamo iniziando il nostro viaggio in questa meravigliosa passione o lavoro se è per questo può essere che all'inizio non ci sia tutto chiaro. Ecco che oggi andiamo a vedere un menu in particolare su Canon EOS R100 nello specifico oggi parliamo di questa fotocamera ma è una cosa trasversale perché è un menu che si trova su molte fotocamere. In particolare io vi parlo di Canon ma credo che molti altri brand abbiano un menu facilitato di questo tipo. Prima di cominciare io vi ricordo che il rischio di sbagliare le fotografie durante un lavoro un servizio fotografico o anche semplicemente durante le vacanze è sempre dietro l'angolo. Se volete scongiurare questo pericolo iscrivetevi adesso al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Benissimo ma andiamo a incominciare. Come potete vedere quando noi apriamo il menu di una delle nostre fotocamere può essere complicato. Che cosa sono tutte queste cose? Abbiamo tantissime opzioni e spesso non è facile trovare il nostro posto all'interno di tutte queste voci. Ecco però che in particolare con Canon abbiamo la possibilità di andare ad attivare il menu guidato e contestualmente abbiamo anche la possibilità di attivare le guide. Quindi adesso io vado ad attivare la modalità guidata in toto. Sostanzialmente è una modalità di menu diversa più facile da usare. Infatti come potete vedere la prima cosa di cui ci rendiamo conto è che ci sono meno voci. È cambiato il colore del menu siamo passati dal nero al bianco ma ci sono meno voci. Quindi noi adesso andiamo nelle impostazioni di scatto e vedete che il menu è diverso. Abbiamo meno cose e risulta immediatamente più facile da gestire. Inoltre il menu è un po' più friendly perché vedete che abbiamo delle icone che ci aiutano a capire di che cosa si tratta e che cosa stiamo facendo. Troviamo subito le impostazioni per la memory card, le impostazioni per il display per esempio, le impostazioni per il wifi, abbiamo tutte le icone bluetooth, satellite, gps e quindi troviamo tutto più facilmente. Questo è il menu di playback quindi proteggere, mettere un voto o editare le foto. Vedete che abbiamo tutto a portata di mano. Un altro modo per rendere più semplice il nostro menu, vi voglio far vedere anche quest'altra opzione. Quando noi scattiamo in priorità o in program vedete che quando premiamo il pulsante Q per il quick setup abbiamo un menu di questo tipo. Qui possiamo scegliere una serie di cose come per esempio il metodo di autofocus, one shot, i modi di drive, i modi di lettura, la qualità della nostra fotografia, la temperatura in Kelvin e tante altre cose tra cui il formato della nostra immagine. Che cosa succede però se andiamo a impostare la modalità full automatic? Ecco adesso siamo in A+, è una modalità di Canon ma credo che tutti i brand abbiano qualcosa del genere, è una modalità dove la macchina si prende cura in automatico di tutto quanto. Ecco che se noi andiamo a premere Q, quick setup, abbiamo un menu di tipo diverso e qui possiamo per esempio impostare preset. Io adesso premo in alto e vedete che ho una serie di preset che mi vanno a modificare il colore, la tinta della mia immagine e quindi posso già dare un mood molto forte, di fatto è già un color grading alle mie immagini. Ovviamente questa è un'opzione che funziona in JPEG. Torno a mettere neutro, ripremiamo quick setup, vedete questo è ancora più interessante, qui abbiamo la possibilità di decidere la sfocatura dello sfondo, quindi abbiamo automatico oppure abbiamo sharp, in questo caso la macchina cercherà di tenere tutto quanto a fuoco oppure abbiamo blurred, in questo caso la macchina tenterà di sfocare lo sfondo. Ovviamente questa opzione agisce sul diaframma, noi stiamo dicendo alla nostra macchina che deve aprire o chiudere il diaframma per regolare l'opzione in base a quello che noi gli abbiamo detto, ma invece di parlare di diaframma stiamo parlando di sfondo sfocato, è un'opzione che è molto più friendly nei confronti di chi di queste cose ancora non capisce niente. Abbiamo poi l'opzione brightness, di nuovo questa opzione va ad agire sulla compensazione dell'esposizione per darci un'immagine più chiara o più scura, stiamo parlando di un'immagine che è scattata in automatico, quindi ci sarà l'esposizione TTL in camera e noi qui possiamo andare a compensare in più o in meno. Possiamo anche agire sul contrasto e questo personalmente lo trovo molto interessante perché capita spesso anche a me di crearmi dei preset dove vado ad aumentare o diminuire il contrasto e di solito vado a diminuirlo, quindi questa l'ho trovata molto interessante e molto intelligente come funzione. Abbiamo anche la possibilità di gestire la saturazione, anche questa è molto furba come cosa perché gestendo la saturazione in questo modo noi andiamo ad agire direttamente sul jpeg abbiamo già un'immagine potenzialmente pronta. Abbiamo la possibilità, e questo è interessantissimo, di agire anche sul bilanciamento del bianco e questa è una cosa super intelligente perché così possiamo mettere veramente mano alla nostra immagine, abbiamo anche la tinta, quindi possiamo agire sui gradi kelvin e possiamo agire sulla tinta in maniera tale che la nostra immagine sia veramente sartoriale e veramente come noi la vogliamo in tutto e per tutto. Ovviamente poi io consiglio di rimettere tutto a zero se no ce lo dimentichiamo. Abbiamo anche la possibilità di gestire un bianco e nero, quindi possiamo fare un bianco e nero semplice, un seppia, un blu e poi abbiamo un viola e un verde che insomma non credo che verranno mai usati, io credo che si useranno sempre i primi due ma forse anche semplicemente forse i primi tre, anche il blu può essere carino, io tendenzialmente userei sempre quello normale in questo caso però sono opzioni che è carino sapere di avere e qui ricominciamo da capo e questo qui è il nostro menu facilitato. Tornando al menu principale un'altra cosa che volevo farvi vedere vedete che nel momento in cui noi selezioniamo una voce e rimaniamo fermi vedete che qui abbiamo la guida, adesso io qui l'ho lasciata in inglese non importa tanto non dobbiamo leggerla, vedete che quando io mi sposto lui mi dice che cosa fa quell'opzione quindi ogni volta che io mi posiziono su qualcosa mi dice esattamente che cosa posso fare con quell'opzione, questo è molto utile, io l'ho spento perché tanto le conosco già però questo è molto utile perché così se vogliamo fare qualcosa sappiamo se siamo nel posto giusto. Ora che cosa vi consiglio io di fare con tutte queste opzioni? Innanzitutto cominciate a conoscere la vostra strumentazione, partire dal menu facilitato o dal menu guidato può essere un'ottima cosa per chi non ne capisce assolutamente niente e vuole prendere dimestichezza con la macchina, con le sue caratteristiche e con le sue potenzialità. Man mano cercate di rendervi conto di cosa sta facendo la vostra macchina e cercate di passare a delle modalità più progredite, quindi magari una volta che avete capito tutto il menu potete spegnere la modalità guidata in maniera da avere il menu completo e una volta che avete capito come si scatta in priorità o in manuale addirittura potete uscire dal quick setup facilitato e andare ad agire sui veri parametri fotografici invece che su quelli facilitati. Tenete conto che quando voi andate a dire alla macchina sfocami lo sfondo state semplicemente aprendo il diaframma, è esattamente la stessa cosa, solo che se lo fate consapevolmente avrete un'immagine migliore perché state dando i parametri alla macchina, se glielo fate fare in automatico la macchina compenserà e non ci sarà contraddittorio, la macchina non starà a dirvi non lo posso fare o non viene bene perché le condizioni di luce non me lo consentono. In realtà la macchina non è che vi sta mai a dire delle cose, ma se lavorate in manuale vi rendete conto che certe cose in determinati contesti non funzionano, non funzionano perché la luce deve essere di un certo tipo per permettervi di scattare in un determinato modo. Quando lo fate in automatico la macchina non vi dice niente, compensa da sola alla belle meglio e vi trovate il risultato che vi meritate in buona sostanza, mentre quando lo fate in manuale prendete pieno possesso di quelli che sono i parametri e quindi riuscite a progettare il vostro scatto, a pensare prima di scattare, a vedere la scena prima ancora di tirare fuori la macchina e questo inevitabilmente vi porta verso una consapevolezza che vi permette di scattare fotografie migliori. E badate bene anche semplicemente rendersi conto se è il caso di scattare una foto oppure no, è già tanta roba. Io mi ricordo nelle mie prime fasi da neofita tiravo fuori la macchina, anzi non la tiravo neanche fuori, ce l'avevo sempre in mano e scattavo qualsiasi cosa, perché dovevo capire se quella foto veniva bene, dovevo capire se poi mi piaceva una volta tornato a casa, dovevo trovare la mia strada. In questa prima fase va bene, facciamo tesoro di questa fase però non continuiamo a scattare alla raffica, alla rinfusa, quando torniamo a casa scartiamo quello che non ha funzionato e continuiamo a riproporre quello che invece ci è piaciuto, in questo modo affiniamo quello che siamo riusciti a fare, sia per quanto riguarda composizione e luce, sia per quanto riguarda i menu della nostra macchina. Se stiamo scattando in un determinato contesto e ci rendiamo conto che con determinate impostazioni non funziona, cambiamo quelle impostazioni in modo che la volta dopo lavoriamo meglio e prendiamo una strada per cui cerchiamo di migliorare ogni giorno in quello che facciamo. A questo punto amici io vi chiedo, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti, utilizzate il menu guidato oppure siete utenti esperti che non ne hanno bisogno? C'è qualcuno a cui consigliate di utilizzare il menu guidato? Linkategli questo video, sicuramente gli farete un favore. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale chi non l'avesse ancora fatto così rimanete sempre aggiornati sulle prossime uscite e non vi perdete le mie risposte ai commenti sotto forma di shorts verticali. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo qui con me sul canale e vi do appuntamento al prossimo video.